ragazzi sicuramente questo video non andrà mai su youtube sono nella mia caverna ovvero mi vedo abbastanza strano sono nel mio vecchissimo garage di nonna siccome non avevo un cazzo da fare e mi sento un po' aggrippato sono venuto qui ad allenarmi come potete notare qui non ci abitano da circa 10 anni non ci sono nemmeno le luci quella è una candela c'è una candela lì una più in basso è il flash del telefonino è la luce del computer ho fatto diciamo una corsetta sul posto e adesso riparto con una corsetta poi vediamo che cosa posso inventarmi come assolto qui non c'è uno spazio di niente c'è il mio ex motorino essere di merda ex quello lì non è il mio motorino il mio motorino era il mio motorino era lo zip quello è il mio motorino e lo è ancora se ancora esiste quello è mio prima o poi arriverà da me perché chi mi assaggia non si scorda più di me capito? come al solito sono un idiota mi faccio video da solo probabilmente perché ho carenza d'affetto non lo so quindi ho bisogno di parlare con me stesso da solo a volte le persone che passano di qua dal garage probabilmente sentono questo chiacchierone si si sono io che parlo comunque ricominciamo con l'allenamento prima un po' di di stretching ricominciamo con la corsetta davvero non c'è un cazzo da fare sentite questo trambusto qui sotto qui sotto ho messo una cosa di di legno a un bordello perché non esiste un pavimento qui è tutto stirro tutto schifo tra poi c'è un topo capace scusate questa è la banana di poco fa davvero divertente farsi video mentre uno si allena forse era meglio se andava a correre fuori arriva e veniva qua bello riscaldato o forse anche sarebbe meglio andare in palestra servono un po' di piccoli però chissà per quale motivo mi faccio sembra questa voce ridicola la voce alla Barney Stinson Beethoven Barney Beethoven devo accelere un pochettino facciamo le gambe corsa al calcio gambe verso l'alto ogni tanto un saltino corso al calcio è dal contrario non si è dello stesso in realtà è da circa mezz'ora che corro nella testa di capire che cosa devo fare in questo spazio così ambiguo e assieme i muscoli con i calcetti solo i calci a ruoto sapete come si fa? ho un mal di spalla allucinante sono già 4 minuti e 52 che dico minchiate non c'è molto da fare scacciamo un pochettino è da un po' di tempo che non mi faccio esercizi questo coso comincia a darmi fastidio in testa ok è meglio rimetterci non ci vedo ecco così sembra una cipolla bene ragazzi io vi lascio qua cominciate a tenersi seriamente Rocky Balboa è stato un piagere parlare con me stesso come d'altronde tu sei il mio miglior amico e ci vediamo la prossima volta un bacino ciao ciao